La centrale è il capitolo binario 11, attenzione, ad un'alternarsi dalla linea giovane, l'ambiente sta in testa a tre. La scuola è la scuola, la scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Grazie a noi, siamo nella scuola di Alfredo, a domenica dentro di un острone centrale straordinario, in Florence, Italia. Il primo è inerrato, le porte stanno per aprirsi. Questa è una cosa molto basica.